Dante è stato rapito quando aveva 5 anni, è rimasto prigioniero per 11 anni chiuso dentro un silo, adesso è cresciuto a problemi di claustrofobia, ma è un grandissimo cacciatore di persone scomparsi. Colomba ha avuto un grosso problema, una poliziotta, ha avuto una cosa che chiama il disastro e che l'ha resa incapace di ritornare in servizio. Insieme si occuperanno di un caso di un altro bambino scomparso nei giorni nostri e scopriranno, guarda caso, che la persona che ha rapito questo bambino è la stessa persona che aveva rapito 30 anni prima Dante, lo chiamano il padre.